su su no no su 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 porca la puttana salire non prendere a calci ok? ok 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 si ok ora salti ah 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 ma come si è gasata Salve a tutti, sono LoneGamer e per mia sfortuna bentornati su Mr. President No, ovviamente non gioco io, gioca ancora la migliore guardia del corpo del mondo Hello, eh sì, hello stacciola, avete visto questo episodio Mi ha fatto tribolare in maniera incredibile Diciamo che il peggio l'ha avuto di sicuro il Presidente Ramp, che misteriosamente è ancora vivo E oggi ci aspettano una marea di nuovi comizi elettorali Ma soprattutto in molti ci hanno chiesto anche di testare, aiuto sto cizio di nuovo in maniera strana Anche la modalità quella vecchissima fatta col ring Si sente, c'ha voglia di ringo o c'ha voglia di... no di ringo, eh Ringo, di ringo No, era people, no, beh, sai Ma non ci posso fare niente se tu giri Dica, 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 dica Siamo chiusi dentro qui, noi non ci possiamo fare niente No, non è che siamo chiusi qua dentro, secondo me mi ha chiuso lei Perché ho trovato anche delle armi Si sente, sta pianificando cose? No, il mio esercito rigatti non ha bisogno E chi ha visto il finale del gioco sa già cosa la nostra guardia del corpo stia costruendo qui Ma vabbè, dettaglio, allora che dice? Prima Ringo People o Comizio People? Vi di tu Ringo People, vai, vai, vai Così premiamo la nuova modalità e dopo torniamo sulle altre Allora, in questa modalità saremo... l'assistente sta cagando o si può tirar su un attimino? Grazie Saremo la guardia del corpo ancora una volta Che dovrà affrontare il Presidente Ramp Noto giocatore professionista di wrestling Perché di quella poca l'assistente Mi volasse di sotto e mi inquadra il Presidente Ramp L'assistente, lei è una pessima telecamera Eccolo laggiù Noi dovremmo cercare di colpirlo almeno una volta E di non cadere rovinosamente in questo modo Se noi tocchiamo qualunque cosa al di fuori del ring Perdiamo No, guarda che te l'hai la cosa di... Quindi cosa devo fare? Quigliarlo in pieno con una gomitata o altro Una craniata, una scureggia in faccia Se lo posso fare, ricordo i tasti Non ne vero mai Vada, vada Ok, ok Il Presidente l'ha passato da un chilometro e mezzo Mi piglia qualcuno della folla Dobbiamo anche rimborsargli le spese mediche Sì, così Ah, è vero! No, ma ho detto si butta Ha saltato e si è buttata No, ma ascolta mai Rema R Deve semplicemente cadere su ramp Non è così difficile Ok, ora si butti Ora si bu... Io ho a che fare con persone con problemi Ok, ok E ora si butti Ora si butti Buono E' arrivata una testata sulle balle Ma ho i dettagli E' riuscita a volare fuori dal ring in ogni caso Ok Salve! No, non mi preoccupare il pubblico Vada da giù No, no, no Mi spi... Si stai, si è fatta buttare giù dal pubblico La peggior guardia del co... Si stai Cosa sta facendo? Il Kama Sutra col... Si stai Prima R Non so come fare Prima R Che è meglio Ok, ora mi deve raggiungere il Presidente Devo jumpare Deve saltare e poi buttarsi Per pigliare Oh, oh, è buona È buona No, non è buona E finisce fuori Di nuovo, riprovi Ok, questa è buona Rallenti in aria, rallenti in aria Rallenti... Quando ha preso di far super Ha preso quel povero civile Ok, lo sa che adesso non può buttare Si butta comunque Rallenti, rallenti No, va bene Oh, oh, oh Che è successo? Ho lanciato Trump Complimenti Ramp Questo è Ramp Non ho chiesto Trump Cramp No, i cramp mi stanno venendo a me Dov'è il Presidente? 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 Dov'è? È là sotto È sopra un tavolo Però sinceramente posso dirti una cosa Dica Mi fa senso No, no, è bellissimo il Signor Presidente Dai, lo accarezzi delicatamente con un gomito sulle gengive Ci si butti proprio sopra Ok, è buono È buono Perché assistente? Stavo atterrando così bene Ok, tentativo numero 128 Si butti proprio all'ultimo All'ultimo Ha preso più che altro il tavolo Ma va bene Ha preso il tavolo È basta Credo conti? No, non conta Non conta Non conta Perché ha preso solo il tavolo L'assistente Bastardo Però complimenti molto Karate Kid Anzi, Karate Assistant Ok, è buona È buona È buona È buona Ok, questa era buona Questa era buona Il Presidente ci è rimasto un attimino male Un po' indurito C'è il pacco del Presidente vicino al suo braccio Non è molto Tanta paura Non è molto presidentale Non si muova Non si muova Fa movimenti strani Sì, sì Vado avanti Prima è due Prima due Vado avanti Ok Stavolta è in salita Stavolta è in salita Con una corsa E si butti Lo butti giù Lo butti giù Lo butti giù Tipo hanno usato le scarpe Voglio andare via Vai via Vado avanti Prima due Prima due Oh, l'ha fatta il primo colpo Una volta Allora, qui dovrà salire Fra una scala e quell'altra E poi toccare il Presidente Ok Ok, oddio Oddio Guardate, notare quest'uomo Con che leggiadria No, aspetta Aspetta Oddio, oddio Come fa a finire fuori dal ring Eh, a me non piace il ring Peraltro che posizione molto zen Questo è È la posizione della gru Non è della gru Dell'attacco epilettico Bene Troppi tasti Ma non è difficile Allora Se questo è tutto a scale No, altro C'è chi scende C'è chi sale No, no, no Si sente Troppo male Malissimo Lei e le scale Avete un brutto rapporto Anche nella vita vera Sì Aspetta, ok Adesso ciò Perché se non lo sapete L'assistente a casa C'ha le scale a chiocciola Che per tre quarti delle volte Se le fa a culo Che fa poco Col culo Faccio questo Cos'era? Cos'era? Ma dai Ho i capelli davanti la faccia Sono contento per lei Salti e si muova avanti No, 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 no Ok, ok Ok, ho paura No, non guardi le altre Guardi avanti Non si incasini Con la telecamera Sta scivolando lentamente Verso il basso Oddio Oddio Ma sono a fine No Perché? Si butti anche da lì Lo accetto Si butti anche da lì Ma è là Sì ma dentro il ring Fuori dal ring Santo editing Voi non avete detto Ma è tipo la ventesima O trentesima volta Che rifacciamo Perché? Non lo so Non lo so No, no, no Terra male Di palla proprio mi ha terrata Ciccio è diventato sterile all'istante Oh, oh, oh Di là, di là Che di là Che di là Che gina Ok Prima salta Poi mi butto Ok, ok Non si butti fuori Non si butti fuori No Perché passa in mezzo alle corde? Perché io schivo le cose? Mi son pentito di aver testato Sto in modalità No, no, no No, prendo io Ma in quel posto No, no, no Io mi sono pentito Ok, ok No, no Dai Le ho detto Non giri in aria Ma io non so come fare È quello che dovrei dire anch'io Ok, ok Aspetta Non muori dalle carpe Cos'è? No, no Non so neanche come fare Questa roba Cos'è? Si sente il primo R Per favore Le hanno messo anche in alto Hashtag R per riprovare Ormai Oddio Ti prendo Oddio Oddio No, guarda Scegola dall'altra parte Guardala Guardala Come fa Sono io Sono io Ti prendo da qua È una buona tattica E passo attraverso Non me è possibile Una volta si rimbalzava Su quelle maledettissime corde Ti prendo Perché No Cosa sta accadendo Non lo so nemmeno io Sto guardando lo schermo Da dieci minuti Della serie Cosa ho fatto di male Nella mia vita Ok Ok Assistente la prego Devo solo saltare Salti dentro il ring Poi qualunque cosa combiniamo E vada Vada Gli salta addosso Gli salta addosso Ok Buono Buono Premi due Prema due Per favore Oh no Cosa sta Salga ma ho paura Salga la scala Vada sopra Vada sopra Oddio Ce la fa Un bel saltone lungo lungo E ci si butta È riuscita a non saltare È riuscita a non saltare No Due cose L'ho detto Saltone E ci si butta È riuscita a fare il 50% Vedete Poi io concludo Devo combattere ogni giorno Nonni Ok Poi si proietta Verso l'infinito e oltre Verso l'infinito e oltre Io ricordo che ho bestemmiato A parte qua Perché arrivavo corto E lei arriva a lungo Oddio 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 Sbagliando la zecata Io non ci credo Io non ci credo Non so quello che faccio Ma dove Lo accetto Sono 40 minuti in meno Di quella di prima È dentro la gabbia Il presidente Dov'è No Presidente Dove va La scala Usi la scala Non spinga la scala Fidati È un piano il mio Ora voglio vedere dove vuole andare a parare Se noi si piglia un filo spinato sulle gengive 3,2,1 Buona Oddio 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 Che ha fatto Che ha fatto Ci state No 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 io non ci credo Siete Ci ha messo 40 minuti A fare giusta Quella di prima E questa è la zecata I primi colpi Buttando giù la scala Ma la butto giù Io dalla scala Vada avanti Per favore Vada usata solo Giuro le tiro qualcosa Vada avanti Una caramella? No Un porco Vada avanti Deve riuscire a pigliarlo Mentre è sul filo spinato Scusi signore Guarda che fa male Dormire lì però Il presidente è un po' Fakiro Ma vabbè Ok Allora vediamo adesso Quante volte ci metterà Io dico almeno una decina Ok Adesso Oddio 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 Quasi No bisogna saltare un po' prima Allora Un po' prima Ok Giuro buttarsi un po' prima Ok Più bello è che l'assistente Si sta facendo la colonna sonora Da sola Quasi si sta facendo la colonna sonora Da sola Quindi mi Sono come Kronk No è Rink No Kronk Vada avanti per favore La tattica è buona Deve solo riuscire a pigliarlo Adesso Ok Ok Quasi 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 anche afferragli un braccino Un braccino Perché ho voluto reccare un altro episodio Conscio di casini Dello scorso Quasi 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 Che non è che abbia tempo da dedicare Avevo una vita un tempo Ero una persona felice Ce l'ha fatta Ok finisco il capitolo Finisco il capitolo Hai dei problemi Allora Torniamo alla modalità normale Casomai Sì Io sarei picchiata male Vada per favore Dove andiamo di bello oggi Dove essere Bevete tutte queste cose Sì no Sono io quello che mi sta bevendo tutte Porco cane Pagate con i soldi dei contribuenti Allora Si torna alla modalità normale assistente Deve salvare il presidente Tan 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 Non ha cominciato bene la sua giornata lavorativa Tan 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 Tanti saluti Provi a parare il proiettile a sto punto Ce la puoi fare Ti salvo io Sono arrivato Ok è buona È buona Oh No è arrivata 10 millisecondi prima Porco cane Che per spostare Trump Non è facile Ti salvo io No 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 Allora provi a spostarlo Ma è difficile Se piglia in pieno il coso Lì E' fanata Però Che scena figa Si sembra si fosse fermata Per fare il selfie Sul finale della serie No Cos'è Ho sbagliato Sbagliato Ok Ok Cos'era No Ha laggato il gioco Non ci credo Si sente Le hai dato il proiettile di traverso No Era buono questo Bevo Beva che è meglio Bevo anche io Guardi Tanto ormai ho davanti a vodka Ma vuoi smettere di morire È troppo Il tattempistico è troppo stretto In sta boia di mappa Per uscire Perché si ferma a mezz'aria Non lo so Ma lei smette di premere i tasti E allora il gioco mezzo bugato Ovviamente Perché un gioco Così ben fatto E ben sviluppato Quando cambia la telecamera Mi fa A questa volta Che ero sbagliato Giustamente Me lo fai giusto Ma vaffa Corri scappo Mi hai rotto le scatole Oh Perché Ma perché si ferma Perché gioco Non vale Lo salvo così Oh Oh Ma no L'avevo parato Rivedrò L'amo viola Ma secondo me L'aveva parato Al vitro Era Era fallo questo Era buona Come questo Questo si Però ma Prima mi sembrava valido Ma Ok 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 No era bagato il livello L'abbiamo rifatto Credo 60 volte Premmi due Prema due Prema due Ma forza miseria Oh oh È là sopra stavolta Che sto facendo Da dove Si sente Quasi 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 In realtà È un pezzo di pane Allora No è un pezzo di pane Vediamo i precedenti Le precedenti guardie del corpo Del presidente Dove fa Ok ok Attenzione C'è la guardia lì No Ha beccato L'unico punto In cui non c'era Trump Dei buttargli giù Tutte le Le gratte Ma sei coglione Buttati nel buco No Ma cos'è Buttati nel buco È Trump Ok provi a evitarmi La guardia lì Ok Si butta troppo presto Assistente Si deve buttare un po' dopo Ok Ok buono Ho salvato Con quanta contentenza Dove va Dove va A mostrare una nuova posa La posa del cegno Siete ma lei c'ha Gli animali confusi Cos'è Per favore andiamo avanti Che è meglio Uh io ho capito Gliela lascio da scoprire Mi sa che ha capito Mi sa Devo buttare giù le pareti Ho capito Si Vado 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 Spacco tutto Guardi che sono tante pareti Spacco famiglia Guardi che sono tante pareti Mi sa che forse era meglio Se camminavano Molto tanto Spacco famiglia Dove va Corro contro i muri Vada Ok 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 Lampo Chi le dice che era L'ultima parete Guardi che Trump è laggiù Ancora Veloce Si rialzi Il prezzo Si sta Porco cane Arrivi Dritta sparata Arrivi dritta sparata Ho portato un sasso per gli iscritti Gli iscritti al canale di Trump Ovvio no Non tocchi le guardie Non tocchi le guardie Che sono cazzarecce Vado via Vado via Vado via No assistente Non torna in dito come era Veloce Veloce Corri Corra Corra Nessuno lo può fermare No a parte le gabbie Riprovi 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 Veloce Pedali Pedali Non vada a caso Che ci sono le gabbie in giro Qui c'è uno soldato Ok Qui c'è Trump Non poteva spostare Trump E tanti saluti Era più semplice Questa è la porta C'è una porta in mezzo al nulla Mi pare giusto Ok Era la ballo dell'imbecille No Di qua Di qua Di su Che smusata che ha tirato Distente Ricominci che è meglio Per favore Era di qua Basta andare dritto in continuo Tranne che sulla quarta Ora Sterzi Ho detto Sterzi Non si pigli una grata in palla Uno Due No Al centro Al centro Allora una a sinistra Poi a destra Poi a sinistra Schivi la guardia Ok Schivi la guardia Salvo famiglie No Ma fatta che spingesse Trump Doveva solo spingerlo Guarda Ti coccolo Che fa Che fa Che fa Che non mi gratti il presidente Non mi gratti il presidente Che dà Ha la pelle delicata Corro Di qua Di là Di su E ora schivi Schivo la guardia Ok Ok Spinga Trump Spinga Trump E spinga Trump Spinga Buonissima Vivo Ok E vivo Oh Ce l'abbiamo fatta Io non sto molto bene Ma No Con che stile Peraltro Oddio 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 Dica addio Riprovi Dai I salti sono i peggiori nemici Dell'assistente moderna Ok Ok Oddio Oddio La tattica era buona La tattica era buona Deve solo saltare Deve solo saltare L'ultro La resistente Anche prima Con le scale Salze che i primi due E poi cicca l'ultri Perché Perché sto ad ascoltare te Non deve ascoltare me Stazzi Pezzo di pane Arrivo Niente L'ultimo non ce la fa Deve fare quattro di salti Per l'esattezza Ok Ok Ora salti Ah Che era buona Ma come Si è gasata Mi sono gasata Ok No Guardi che non è il salto del barile Guardi che c'è di prima Guarda No ce la fa Forse ce la fa Ha spusato la bomba Ha spostato la bomba Dove è andato il presidente Eh L'ho visto volare Guardi che c'è la seconda bomba No Si è presa l'altra bomba E ha tirato male laggiù Però ho salvato il tizio qui Ma Ma Non era male L'ho visto partire per aria Ma 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 Stavo bovendo della vita vera Mi sono spaventato Ma Ma Come ha fatto Prenderlo Ok Ok Manca l'ultimo Buonissima Buonissima La bomba La bomba Si salva Si salva Si salva Vai via Cos'ha fatto Si salva Ho deviato la bomba L'ha salvato Ho salvato la bomba Come ha fatto Come ha fatto La vedo un po' messa male Sono morto No 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 Io ti ne ho ferito E ci chiedo A te ha preso Smusate muri Fino adesso Vado avanti Prema 2 Non R Che la picchio male 2 Dov'è Dov'è presidente È lassù È lassù Lo salvi Ti sono i pericoli No Aspetta Oddio Oddio Non mi dire che lo salva più un colpo Come sta cadendo Peraltro Cos'è Cos'è presidente L'ha salvato L'ho salvato No Prema R Voglio che lo rifaccia meglio Prema R Può rifarlo No L'ho salvato Faculizzati L'ho salvato Ok dove va presidente Presidente Lo vedo un po' confuso È svenuto Poverino Presidente Cosa fa palla E sviene Qualcuno può dare Dei farmaci Ha premuto R Per davvero Ha premuto R Per davvero Cazzi è karma No C'è la giamperina C'è la giamperina Ok Addio Lo ha mancato un attimino La giamperina è arrivata sopra In compenso Allo stesso Le ricordo che questo tizio C'ha problemi con le scale Ti difendo Potrebbe buttare il suo corpo Per salvare Trump Lo salvo C'è notare che Trump Fa molto Pilates Per chi se lo domandasse Lo salva Lo salva No non ce l'ho fatta Mi dispiace Ma l'ho fatto prima Secondo me deve usare la giamperina Per pigliare il presidente E se la scena ci ha insegnato qualcosa E che sta scena Dovremmo rivederla parecchie volte Ma non l'avevo fatta dal primo colpo Non possiamo far finta di niente No non può Non può Ormai se premere per errore Il gioco Oddio Oddio Tocca arrivare un attimino prima Mi sa Forse riesce a bloccarlo Se lo blocca per abbastanti secondi Per il gioco va bene Rivalentato Oddio 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 Ce l'ha fatta prima due Prima due Prima due Che botta di culo Grandissima immaginazione Dov'è Dov'è Aspetti Signore Mi dispiace Chiedo scusa Oddio Cosa è una macchina No ma è il coso che fa Il waterboarding Hanno inventato la macchina Per fare il waterboarding Adesso Tu da qui Si sente un gatto Non gli piace l'acqua Devi spiegarmi Io come faccio La mia Oddio C'è una valvo Uh Ha capito come salvare il presidente Davvero Così a cazzo Così a cacchio Ce la può fare Deve attivare la valvola Cos'era Ha fatto un salto di gioia E spedirlo verso l'alto Verso l'infinito ed oltre Quasi 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 Un po' prima Un po' prima Ce la può fare Ce la può fare Ok No Si è messo a fare il waterboarding Con un altro signore Io ho salvato signore Ho capito che c'è un po' di calura estiva Assistente Ma lasci stare il waterboard Dove sto andando Dove è andata Aspetti Vada vada Buona Oh quasi Mezzo secondo Pampara Mezzo secondo Ce la faceva Ce la facevo Corri guarda del corpo Laggiù Pampara Salva trampino Dudu Eh Alica Ci faceva la passeggiata Eh ho provato E ho provato a far passeggiate Pensi al povero Oddio 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 No No Era buona come tattica Ciao Come tattica era buona In sua difesa Era molto buona In teoria infatti Oddio Ok Oddio Non mi dire che salva Quasi Quasi A me non piace fare le cose Come tutti gli altri Io le faccio in modo diverso L'assistente non fa le cose per bene Lei le fa male Ma le faccio male Vente bene Non so fare E sarà Ok ok Buona 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 salvato Salvato Cioè non so dove sia il presidente È arrivato il presidente Vado a vedere come è messo il presidente L'assistente si rialzi L'ha messo in prigione No 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 è fuori dalle prigioni No è dentro in prigione L'abbiamo messo in prigione Come non ho detto Ci serve un altro presidente Se premeva R Ti tiravo il bicchiere di vetro Ho fatto Sono stato brava Vado al prossimo Ce ne abbiamo fatti cinque L'altra volta Dove siamo È con Putin No Sputin No Sputin Oddio Gli hanno sparato parecchie volte L'assistente Quando ha finito di abbracciare i colonnati Devrebbe salvare il presidente Il nostro presidente Arrivo Perché salta chilometri prima Non Putin Non deve salvare Putin Lei è confusa su chi sia il presidente Chiaramente Non l'ho molto salvato No L'ha chiamato un colonnato Ma il Putin mi resiste al colonnato Vada Ma perché non gli hanno spinto Guarda guarda E salva Putin Non devo Non devo salvare La vedo molto Diamogli una foto del nostro presidente Guarda No ma che fa che fa che fa Che fa Si butti Si butti su Putin Ok 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 Ti proteggo Corri il mio corpo Un po' è un vicino Forse L'ha salvato? Ho avuto un proiettile di rimbalzo Non vedo Si è rincasinato Ma chi sa Sta dando la mano al tendone Dove sono? Signori dove sono? Non li vedo Signori Dov'è? Lassù? Come deve Oh assistente Sentò che tirerà parecchi porchi stavolta Vedo dove devo passare Ah no Devi spingerlo davanti Per parargli dei colpi Spinga la cassa davanti a loro Veloce Spinga 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 No calci Il 2 Il 2 Ok Ok Buona Non troppo Quasi 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 Però l'idea è buona Dove solo spingere la cassa con il quadro davanti Ho spegnato La paura Il terrore Non è paura È veramente attacchi brutti di psicosi Spinga 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 No no Spinga la cassa Insistente Sta spingendo l'aria Porco cane Cosa sta combinando Sono troppi tasti Sono 5 i tasti Cioè Tutti lontani tra di loro Ma non è vero è Wast più 2 Avanti È lontano Wast Ok ok Spinga Spinga Oddio Oddio No troppo tardi Troppo tardi Forse Forse No l'ha spinto troppo Oddio forse No una è arrivata Una è arrivata L'ho vista Però non era malaccio Ok Ha scelto le scorciatoie L'assistente Oddio non so quanto l'abbia scorciata Ok veloce Veloce Spinga 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 Non sto partorendo No ha spinto troppo mi sa Buono è al centro Non la tocchi È al centro Non la tocchi Ok Come fanno a passare comunque È al centro Non la toccare Ma era al centro Era al centro Una la parata Se mi guarda verso l'alto Dio Non riesco a guardare Non si può guardare qui in alto Ok Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Oh mio dio 26 Se l'ho fatta Ma prima 2 Non volevo Vole vedere queste scene Cioè è sempre amore Non giudichi Oddio Cos'è Mi sa che deve fare tipo Spingere quella scatola Sotto quelle altre Per poter saltare sopra Deve spostare questa Veloce Non ho detto di schiantarci Si contro Si sente Cos'è Ha preso una sedia in faccia Si sente Per favore La spinga col 2 Senza prendere colonne o altro Ok Ok Più Più Dove la sta spingendo Si sente Come va La telecamera La telecamera Non riesco a salire Ok Ok Buono Io che piango Io che devo montare il video dopo Continuare a spingere Perché salta Spinga Non sa Ok Non la sminchiate Non era male Ok No Non salti Spinga Sta premendo entrambi i salti Deve solo Spingere la maledissima cassa E poi saltarci sopra Ok Ok Ora comincio a saltarci sopra Più o meno Più o meno Oddio Oddio Non è male Oddio Perché stava continuando a spingere in aria Perché Mi mancano i momenti In cui bastava Cercare di Dove è Al pubblico Stente Cosa cazzo sta premendo Salta Ok Oddio 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 Per un secondo mi ero casato Per un secondo mi ero casato Stente Spinga Ok Ok Non è male Non prenda Si è messa lì a fumarsi la sigaretta Non lo sa Ero un ruridono Ero un ruridono Ma santo patrono Oddio Cos'era Cos'era Perché Non ci credo Non ci credo Siamo qua da 20 minuti Assistente Ok Ok Rallenti Rallenti piano Ok 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 No 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 Perché Dai 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 Ok Brava assistente Brava assistente Ok 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 No 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 Porco Che Perché Perché il signore è rimasto lì E si è alzato dopo Yeeey Ecco quale è caduta Da dove Da dove Da dove Per cosa Perché Cos'è Fermo Fermo Che ce la posso fare No Non era male Sono successe cose Ciao porta Sì sì Ciao porta Ciao colonnato Ce la fa Ce la fa Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ok Non so Dove è andata Non sapremo nulla Lo sapremo tra poco Anche questa è una mia mossa Ce l'ho fatta Del cadavere Ok Ok Guardi su Va da su intanto Calma Devo capire dove devo andare Oddio Deve spingere il barile Salire sul barile E andare dall'altra parte Eccia Ecciaone Vediamo un esemplare Di guardia assistente Sì ma c'è un buco libero Che sfiga Oddio cade bene Cade bene Cade bene Occhio no 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 Oddio Cos'è Perché stava andando bene Cos'ha fatto La telecamera assistente Si chiama panico No si chiama Parkinson Gliel'ho già detto Panico Io veramente Se devo essere salvato Da lei è finita E' più facile Che il tizio Che mi deve sparare E sbagli il colpo Questo gioco E' fatto per essere difficile E' fatto per farti incazzare Scivolare sulle catrecche E via dicendo E morire malo malo In maniera molto stilosa E chiaramente Oddio Non buttarsi Salire Vuol dire Usare una propulsione Verso l'alto Direttamente proporzionale Ai porchi Che devo tirare Per montare sto video Salga sopra l'uno Su Su No Porca la puttana Salire Non prendere a calci So cosa vuol fare Ma è molto difficile Oddio era buono No No Era buono Era buono E l'idea era buona No no si è smigliato Salti sopra due Salti sopra due Ok 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 Mi sa che muore comunque Mi dice che l'ha spostato abbastanza Forse L'ho salvato Se si è rialzato Siamo fregati No Prima due Prima due Prima due Ho visto un polmone volare Chi ha perso un polmone Io Assistente Vada in fondo Prima il terzo pipotino No Voglio uscire No Io voglio uscire Assistente E' più di due ore Che siamo in partita Mi sta anche avendo il singhiosso Mi sta avendo sui cognati Basta che non siano scale Siamo a posto Ok me ne vado Oh no C'è chi scende C'è chi scende C'è chi scende Oddio 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 era partita bella Oddio Oddio No Arriva troppo bello per essere vero Arriva troppo scala No vi giuro Il livello di prima E' stato un cristo di incubo Ok La vedo Oh finalmente ne abbiamo finita una Ce la fa a pigliarlo là sopra A mano di pancia E credo abbia un problema di sciatalgia Arrivo io a sprem Oddio 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 do quasi Ok ci riprovi Dai che te è fattibile E' facile E' facile Le curo io Cioè è riuscito a mancare In pieno il presidente L'assistente mi ha anche spaccato Le cuffie Della Sharkun Ma si sono rotte No perché Poi è che l'abbiamo usata poco Ma vabbè Guarda Le mie cuffie Vada 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 ok Olè Curata la sciatalgia del presidente come vede sta molto meglio Sta bene Questa è la mia potete vedere una bellissima scena tipo film d'azione no è d'azione è da ricovero si sente ricominci per favore salga con molta calma non resti ferma perché sono qua le scale si muovono le scale siamo Hogwarts no non è adesso arriva il copyright no 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 se voi vedete io comunque c'ho da un che fare tutto il tempo cane piace muoversi siamo Hogwarts per favore assistente per favore glielo chiedo in ginocchio la prego cosa devo fare me la zecchi stamattina eravamo partiti tanto bene ok se io prego ha premuto ha premuto era l'ultima era l'ultima ce la posso fare perché salta un chilometro prima credo sia sotto questo è semplice se mi riesci aspetto dov'è dov'è signor bridente no non era proprio sotto però è ancora viva assistente telecamera cameraman non vedo oh no che culo ma che culo ok devi fare surf con il booster assistente oddio oddio o anche così o anche così no aspetta aveva una tecnica molto dubbia però non era malaccio no c'è qualcosa che non fa no no mi sa che chiuda sta assistente dall'altro lato dall'altro lato cos'è quel surf 18 addosso ti prendo porca miseria ti prendo ti prendo ti prendo ti prendo si gliel'ho detto io di saltare dall'alto che secondo me era la tattica migliore no gliel'ho detto io ho le prove audio basso basso e dove vaffanculo gli ho detto ma vabbè tagli da davanti per favore assistente oh no molta delicatezza ce la fa a prendere rampe lì sotto no con la mossa del granchi non vale porta forti gli assassini vanno fatti in fretta salto imbranato sopra guarda che lo manca guarda che lo manca cos'era lo piglia no lo manca ok ce la può fare deve solo ok ok no no assistente la picchio male io ho preso una smusata che tu non puoi immaginare so che ti dico da sotto fanculizzati no 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 lo sfanculizzi meglio fanculizzati no o sopra o sotto le vie di in mezzo fanculizzati no facci di nuovo se posso provare guarda assistente fanculizzati no troppo tardi fanculizzati veramente l'hashtag dell'episodio fanculizzati vi è avuto il singhiosso mentre lo dicevo prima due la prego vai via ok ok non è male non è male ci cada in maniera rovinosa si fermi per aria no eh niente da fare l'idea è buona però deve cadermi in maniera più precisa non serve troppo propulsio non serve troppo mi propulsizzano si propulsizzi l'ha preso il salame o qualunque cosa fosse ok ok li lasci andare li lasci andare giuro assistente se sbaglia adesso che abbiamo avuto la prima botta di culo la picchio male sono contro la violenza sulle donne ma contro gli assistenti va bene non sbagli il salto giuro ok 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 prima due 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 l'ho visto che puntava la R l'ho visto che puntava la R c'è ancora uno minuto no per favore oddio che succede la cosa succede aiuto che era per un secondo ho visto cos'è sto lagando ah c'è stato un piccolo problema a quanto pare arrivata la polizia è arrestato l'assistente perché pare che sia un reato picchiare al presidente degli stati uniti ripetutamente davanti al al pubblico c'erano le prove video e parecchi testimoni è stato difficile dire che è stato che era un incidente vabbè adesso io devo andare a cercare di pagare la cauzione all'assistente trovarlo un avvocato e via dicendo quindi direi che questo video di mister presidente è tutto resta un bel piaccio di continuare la serie candidati a crescere e noi ci vedremo eventualmente se recupero l'assistente se non ne trovo un'altra nel prossimo episodio ciao ciao